Sto morendo intanto Cos'hai ancora fatto? Sì, cos'ho fatto? Capri, questa parte resterà nel video! No! No! Allora, vieni qua, schifoso Dove sono? Ah, eccomi Oggi, ragazzi, registreremo il pa... Allontana pazzo, c'è il pazzo Esatto Il primo pazzo sarai tu Spero per te che tu abbia l'armatura Sì, 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 sì No, non ce l'ho Non ce l'ho Mannaggia, lui, ragazzi Adesso lo facciamo fuori Adesso... Cosa sta facendo? Lo stiamo a boccare qui dentro Ma ti pare che qua... Ma scusami, cosa fai? Prendi l'armatura! E dove me la prendo? In creativo, ovviamente, no? Ah, capisco, capisco Ovviamente non lo siamo Come si chiama? Armatura... Vabbè, dai, facciamo... Facciamo che per me indossi solo l'armatura in pelle Perché sennò poi dopo ci mettono troppo Eh, lo so, lo so E iniziamo questa modalità allontanando il pazzo di Gabri Guardate, PEM! Dai, perché è in creato? Eh... Chi è pronto, è pronto, chi non è pronto Ok, bene, PEM proprio Posso iniziare, posso iniziare Esatto, adesso... Allora, però devi parlare bene, managgianti Eh, sì, sto parlando bene Ah, no, aspetta, ho sbagliato, ho sbagliato Gabri Dovevo... No, ho poca vita Infatti dovevo usare il bastone allontana Pazzo, ho usato il bastone con la... Quello... Tutto quanto potentiss... Mannaggia a te No... Allora, ragazzi, dobbiamo tenere... Fermo, pausa, pausa Va bene, va bene Dobbiamo tener conto di 4 minuti È importante questo perché... Ah, sì, sì... Eh, esatto, quindi praticamente adesso faccio il timer Ok, via, adesso 4 minuti da ora Via, 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 via Ok, perfetto, ho attivato, ho attivato Cosa? Pazzo? No, non ti permettere Se mi prendi... Allora, prima di tutto non devi essere antisportivo, caro mio Quindi... No, 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 non lo sarò, tranquillo Esatto, quindi devi comportare bene Altrimenti Duny poi si innervosisce E odia... Sì, 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 sì No, vai, mi devo mangiare No, ho sbagliato Cos'è quello? Ho usato quello per allontanarti Vai via! Puzzacchio, è schifoso No, no Guardate che bella miniera che ha costruito Gabriele Ha costruito la casa della strega Sembra casa mia Sì, esatto, ha costruito la casa sua qua E mi piace che bella casa, caga, mamma mia Wow, pazzesco Eh, esatto Pazzesco sarà il fascino del tedesco Ma vai a... Ma ho usato un altro Ma infatti, Gabriele Mi sto confondendo Vabbè, almeno ti sto dando il vantaggio a te E infatti... No, allora, devi stare... No! Ok, allora Purtroppo, ahimè Non ho vinto Infatti adesso partirà il secondo round Vieni qua Va bene, va bene Dove sei? Perché parlo deficiente? No, lo so È importante però parlare deficiente Perché? Eh, non lo so Mi ha interrotto Quando io stavo parlando mi ha interrotto Ah, scusami, scusami Non volevo Ora voi sentite la mia voce Vedete la mia faccia E sentite a pelle Il... La sensazione, no? Di... Di essere in questo video bellissimo Lo sentite sempre di più Che questo video è bellissimo, vero? Eh, mamma mia No, no, no Allora, ti do il tempo Adesso parti Parti tu con i 4 minuti Tu hai il timer, Gabri? Dimmi un po' Eh, no, non ce l'ho il timer Ok, perfetto Allora lo apro io Ce l'accendo io Va bene Via, via, via Via, via, via Cosa hai fatto? Adesso ti immagini che uccidi te in realtà No, eh No, 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 no Ah, ti pre... Vieni qua, Gabri No, 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 no Non vale, non vale Gabri, vieni qui Vale come? No, no, non vale Non vale Sì, però questo pazzo deve muoversi più velocemente Cioè, dico io Mi devo muovere più velocemente Eh, lo so, lo so, lo so Sarei io ad avere l'armatura in pelle comunque Giusto? Ah, eh Te lo vado qua Ma non importa Vabbè, dai Lo apprezzo molto Anche perché mi stai dando il vantaggio No, 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 no No, no, no No, no, nel ladder non vale assolutamente No, no, no Poca vita, poca vita, poca vita No, no, non vale Eh sì, sì, invece che vale Non vale Ragazzi, qua comunque la storia della fine vicina È sempre più vicina appunto Perché sono successe delle cose nel mondo Sì Non vi voglio dire Ma secondo me la fine è sempre più vicina di questo mondo No, no, non voglio che finisce È bellissimo questo mondo Tranquillo che tanto abbiamo il backup Non finisce niente Ah, infatti, è vero Aspetta, fermo, fermo Fermo Perché ho vinto io primo Secondo ti devo dare l'armatura intera Eh, infatti Un bravo Non lo so Duniz Pazzo No, no È però metà Metà armatura Infatti il resto Il resto Niente Via Partiamo Via, 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 via Aiuto Ah, no, sono io che devo andare da te Stavo scappando io Invece Aspetta, mi devo cambiare i bastoni però Il bastone Mannaggia il bastone Ti uccido Basta, adesso ti uccido Mannaggia No, no, no Ti uccido, ti uccido Mannaggia No, ragazzi Mi ha ucciso Il pazzo ha vinto Eh, ma vai a quel paese Comunque questo pazzo non va bene Perché è troppo semplice da uccidere No, no, no Va bene così Va bene così No, perché sennò poi troppo Non gli ho Devi l'armatura Solo due pezzi Va bene, dai, va bene E poi altri ce li hai A prezzo Comunque quattro minuti Allora non valgono Due minuti Due minuti massimo Ah, va bene Sì, forse è meglio così Esatto Avvia, via Eh, vieni qua Vieni qua Immediatamente Sì, assolutamente Immediatamente vieni qua No, sono io che devo uccidere No, ho sbagliato Stick Va bene, ma dai Ma te ho ucciso Ma te ho ucciso Cioè nel senso No, non vale Non vale Vabbè, ho vinto però Sì che vale Adesso partiamo di nuovo Con un altro Via, via, via Dove sei? Via, via, via Sono da casa mia più o meno Ok, allora aspetta un attimo Che devo mettere Raga, questo video Comunque è una fatica Perché ogni volta Che qua mi devo girare Eh, infatti Ok, dai Allontana pazzo C'ho il bastone Allontana pazzo in mano Adesso tu non mi farai niente Caro Gabri Guardate qua ragazzi Che pazzurdo No, no, no Che movimento sexy Cosa? Che movimento bello Guardate che bello Che so Che bello Gabri ti devi spostare adesso Perché sono nel clou della No, no, no Allora Prima di tutto te ne vai via Allora Se io ti dico che ti devi spostare Però ti devi spostare Gabri Ah, scusami, scusami Non ero in me Quindi adesso non hai vinto assolutamente Assolutamente no No, no, no Che schifo Assolutamente mannaggia Io seriamente lo odio Guarda Aha, stupido Che schifo Che bello allontanare il pazzo Con il bastone della lontana pazzo No, no, no Non vale Sì, sì Non vale Adesso ragazzi Sentite la voce stridula Sentite i suoni dell'ambiente No, li sentite tutti quanti Poi vedete Tutto questo Questa bellezza del video Tutta questa Tutta questa cosa Vi porta a sentire Tutto quanto di più Bellissimo, vero? Anche te Gabri Ti senti sempre di più Eh, sì, sì Sempre di più Sempre più felice Infatti ti vedo Mamma, c'è a te No, no, no No, no, no Ok, allora Praticamente ti posso spiare Da dietro con il mio tasto Ah Vattene via Schifoso Non ti permetto No, no, no Devo ammazzarti Devo Ragazzi Eh, ma non pazzo Aiuto 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 ragazzi Devo Mancano 45 secondi ragazzi Aiuto No, no Non vale Non vale Aiuto ragazzi Pazzo Ragazzi è pazzo È psicopatico È Scherzo ovviamente Per tutto quanto rispetto Per le persone che hanno queste patologie Che sono patologie serie Che non Non scegliamo perdere Insomma Gabri Vattene via immediatamente Immediatamente No, 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 no No, no, no Sì Sì Ragazzi No Ragazzi Aiutatemi Aiutatemi anche voi da casa Forza Mi sostengono Mi sostengono No, no No Secondi Secondi No 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 Sono una strega No Schifoso Schifoso Ho vinto No Ho vinto io No, no, no Non vale Ho vinto io Schifoso Ho vinto io Devo vivere Mamma mia Sì Poi Gabri Era tutto quanto pazzo Ti devo uccidere Però Eh Sì Sì Gabri Mi è piaciuta molto questa performance Perché davvero mi hai fatto cagare addosso Allora Eh Hai visto Ho visto Adesso tocca a me 3, 2, 1 Via 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 Darmi questa spinta Assolutamente no Io non te l'ho mai data Tu sei disonesto Se fai così Quindi adesso ti fermi No, no, no E ti fai dare tante botte Ciao No, non vale Sì ma fai scherzo Devo vivere Devo vivere Vabbè dai ti do un'altra possibilità Perché sono stato troppo crudele con te Però Eh lo so Ho notato Ho notato Il tempo qua scarseggia purtroppo Quindi io potrei dopo tutto Fare anche Una serie di comandi Che ti possano Far del male Cioè quali Ebbè uno fa tutti Fra i tanti Perlomeno Dei miei strumenti di tortura Duniziani Voi sapete che ne ho Uno fa tutti Quali sarebbero Slash No, 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 no Sì, sì, sì Non vale Vale, vale Viene qua Puzzacchione schifoso No, 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 no No, no Eh andiamo alla Lidl insieme Eh Cosa Ti piace andare alla Lidl Guarda dove sta andando Allora se non vuoi andare alla Lidl Devi girare Se non vuoi andare Oppure vuoi andare Eh continuiamo ad andare alla Lidl No Andiamo a fare shopping Duniziani Vado, vado Ma vi piacerebbe una serie Cosa fa il schifoso Non vale Cosa ha fatto Non vale minimamente Cosa ha fatto Questa cosa è illegale Vado Vado È illegale Vado Vado Devo vivere Devo vivere Devo vivere No Ragazzi è troppo bello Troppo bello Quando si vince è troppo bello Quando si perde No, 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 no Adesso però tu mi fai la cortesia Di stare zitto Eh va bene, va bene Scherzo No, non devi stare zitto Devi parlare Perché sono in un video Allora adesso Eh mamma mia Aspetta un attimo Perché adesso Non siamo ancora iniziati Devi fare tu il pazzo Ah capisco Così ho detto Non siamo ancora iniziati Cosa? Sì Non ho neanche l'armatura Ma come l'armatura? Eh no Ce l'hai te Ah beh giusto Aspetta un attimo Gabri che mi muto Ragazzi mi sono mutato Va bene Praticamente Quello che dobbiamo fare Sarebbe prendere una cosa Con super knockback Tipo uno stick Un nuovo stick Tipo faccio così Capito Do tipo Un valore altissimo Di knockback Cioè che sarebbe Il colpo indietro E praticamente Quello che ho in mente io Ragazzi Ho ingannato Gabri A darmi il codice Che io non me lo ricordavo Noi praticamente Ho messo questo knockback Di livello mille Adesso mi smuto Sentiamo cosa dice Allora Gabri Possiamo iniziare A fare Ah dimmi dimmi Possiamo iniziare A fare il livello Quello là Cioè nel senso Non il livello Per l'amor del cielo Ma il coso del pazzo Ah sì 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 Devi fare il pazzo vai Allora Via da ora Forza Via via Cos'è Perché sono andato Così lontano Eh non lo so Ma infatti mi sembra strano Cioè allora Praticamente comunque Ma tu mi stai seguendo Scusami perché Eh sì ti sto seguendo Ah ma sei lento Ma che noia Cioè nel senso Ma dove mi hai mandato Ma dove sei Ma scusa Ma come fai Ma perché Ma perché Ma scusami Eh scusami Allora Praticamente ragazzi Cosa dobbiamo fare Cioè nel senso Dobbiamo essere sicuri Che Gabri muoia Cioè di cosa No 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 Non devo morire Sono io il pazzo Ecco Cosa hai fatto Eh eh Chi ha vinto Chi ha vinto Basta In prigione In prigione Vieni con me No 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 Sì Assolutamente sì Non ti permetterò No non voglio andare in prigione Guarda che se non vieni in prigione Ti metto nella gatta buia Ancora più buia Sai Ah e quale sarebbe Tranquilla che me la invento E non Non è bello come posto Eh capisco Capisco Ma poi non ti stai Stai fermo un attimo Stai fermo Che ti devo ammazzare Che da mezz'ora Che ti inseguo No Sì Mannaggia te Ma tirai le pene dell'inferno Lì dentro No 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 Sì 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 Assolutamente Cercherò un modo per scappare Ah non lo troverai Perché questa è la realtà più buia Perché io ho fatto Un passaggio segreto Con la mia stanza Ah Cos'hai fatto Sì Allora Allora Forse non ci siamo capiti Io e te Ah prima di tutto No C'era il timer Che mi suonava ragazzi Perché era finito il tempo Purtroppo ma già da mezz'ora Secondo me Eh sì E poi comunque Ovviamente sei morto E poi No non vale Ritorno in prigione Come che faccio Fai Non so Un plugin bello Che ho qua Che caspita ne so Herobrine Gabriles Cosa Cosa Aspetta ma sei diventato Herobrine In realtà non va bene Questa cosa Vabbè Ma vedo delle fiamme strane Ma cosa Vabbè niente Fai finta Cosa stai facendo ancora Non C'ha lui ragazzi Io lo uccido Prima o poi Lo uccido No 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 Non so sembrerlo Psicopatico Vabbè Comunque Allora Niente Fateci sapere se vi piacciono Questi video Allora Mi raccomando Mannaggia voi Scriveteci nei commenti Esatto Scriveteci Sapete che mi arrabbio No Scherzo Fate quel che volete Se volete scriverci Nei commenti Scriveteci Altrimenti Non scriveteci Come volete voi Esatto Non siete obbligati E poi mettete la patata Cosa Nei commenti Eh beh Chi vuole Oppure la carota Insomma In base un po' Alle ai Insomma Vabbè Lasciamo perdere Che sennò Cosa Va a finire male Comunque Tu stai zitto Che puzzi Ma cosa Ma non è vero Scorreggila Non è vero Sì 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 E quindi ragazzi All'interno Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao